Nella giornata di ieri la consegna a Montesilvano della bandiera verde tra le città che la ottengono per la prima volta, Ortona ma anche e soprattutto al Badriatico. Sì, ci avevamo puntato. Sin dall'inizio del mio mandato ho voluto lavorare in questa direzione in sinergia con i nostri uffici e con gli altri amministratori. E' per noi un motivo di vanto essere riusciti ad avere due riconoscimenti come la bandiera gialla per i comuni ciclabili e la bandiera verde per i comuni a misura famiglia per capirci. Siamo oltremodo soddisfatti perché quest'anno solamente quattro località italiane sono state inserite in questo circuito, Ortona, Alba Adriatica, Terracina e Margherita di Savoia. Oltre a Marbella e Spagna. Quindi voglio dire non è un riconoscimento che viene dato così giusto perché uno ha fatto la domanda. C'è bisogno appunto che questi luoghi siano luoghi facilmente identificabili come paesi turistici a misura di bambino. Per quello che riguarda le caratteristiche della bandiera verde e soprattutto le attitudini che Alba Adriatica ha dimostrato, che cosa ha fatto la differenza? Ma io onestamente non lo so di preciso perché ho scoperto che i responsabili della bandiera verde vanno a visitare queste località turistiche che ancora non hanno la bandiera verde e valutano senza che ci sia ancora una domanda da parte dell'ente. Quindi loro hanno già un dossier sulle città. Quando arriva la domanda di questo paese loro valutano se è il caso o meno. Io ritengo che i motivi sicuramente più importanti siano il fatto che la spiaggia vada in modo degradante verso l'acqua quindi c'è la possibilità di controllare i bambini, il fatto che abbiamo una passeggiata dove i bambini possono passeggiare senza rischio di essere investiti da motocicli o da auto sicuramente anche i servizi di intrattenimento che gli operatori e l'amministrazione mettono in campo. Le valutazioni sicuramente vertono intorno a questi motivi qui. Poi se ce ne sono altri più specifici magari lo sapremo quando ci sarà la consegna ufficiale della bandiera. Lo diciamo sempre ma insomma va ribadito anche questa volta l'obiettivo a piccoli passi è quello del ritorno della bandiera. Ebbè questo è il nostro obiettivo, lo è stato dal primo momento in cui abbiamo messo piede in questo comune. Ci abbiamo lavorato veramente tanto, tutta l'amministrazione, gli operatori turistici, l'ufficio ambiente. Noi abbiamo presentato una documentazione ineccepibile. Adesso, come dire, incrociamo le dita, speriamo di poter avere pure questo riconoscimento e direi che se dovesse andare in porto come primo anno, beh, la parte nostra l'abbiamo fatta, che ne pensate?